Ingegner Mattia Siciliano, coordinatore Commissione Speciale dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli Cyber Security. Un bilancio di questa giornata, che cosa si farà nel futuro, quali saranno i passi successivi di questa strategia? Il bilancio direi sicuramente positivo, è stato un momento di incontro istituzionale che ha visto sia il Ministro della Difesa, sia l'Ordine degli Ingegneri, ma anche il mondo universitario, il mondo dell'industria, tutti insieme per cercare di creare una sinergia. Oggi è stato un primo evento, un percorso, stiamo pensando di costruire una serie di eventi che vedremo nel 2020, che tratteranno tutte le diverse tematiche della cyber security, la cyber intelligence, la parte di compliance e così via. Mi aspico che continuiamo questo percorso di collaborazione sia con il mondo della difesa, sia con il mondo dell'industria, perché, come ci attennava anche il sottocapo, bisogna fare sinergia. La sinergia è importante e il ruolo degli ingegneri che ci guidano, quindi gli ingegneri tecnici in questo caso, può essere vincente per creare questa sinergia. Grazie.